Toscana, oggi dunque, il 25 aprile, festa della liberazione, che una città come Piombino, Medaglia d'Oro, vive nel contesto della crisi delle acciaierie. Dopo 150 anni di attività, come sapete, è stato avviato lo spegnimento dell'alto forno della Lucchini. L'accordo siglato con il governo è un patto per aprire una nuova fase di sviluppo del territorio con la siderurgia e nuove attività. Il piano prevede risorse per oltre 250 milioni. Il servizio di apertura di Antonella Morelli. Nella stessa giornata lo stop all'alto forno e la firma dell'accordo di programma. Piombino tocca la fine e poi torna a sperare. Nel futuro del secondo polo siderurgico italiano c'è la riconversione e investimenti per 250 milioni di euro. 150 arrivano dalla regione toscana, 100 dal governo. 50 milioni saranno destinati alla bonifica, 20 alla produzione di acciaio con tecnologie ecosostenibili. Poi ci saranno i fondi per i nuovi collegamenti stradali, la bretella con la superstrada tirrenica e per il porto che si prepara a diventare il centro di smantellamento delle navi militari. 38 ne promette il ministro alla difesa. È una tappa fondamentale per dare un futuro ai lavoratori e ai cittadini di Piombino, commenta il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti. Nel risanamento saranno impiegati i dipendenti dello stabilimento, attualmente 2.500, con contratti di solidarietà, mentre per l'indotto altre 2.000 persone ci sarà la cassa integrazione. Il nostro obiettivo è tornare a produrre acciaio in due o tre anni con tecnologia all'avanguardia, dice il presidente della regione Enrico Rossi, che ringrazia Papa Francesco per aver proiettato con le sue parole in piazza San Pietro la vicenda Lucchini in una dimensione nazionale. Ringrazia i lavoratori e il presidente del consiglio Matteo Renzi. Fino a sera gli operai sono rimasti in piazza a manifestare e a guardare a FO4, che iniziava la sua agonia ad aspettare le notizie da Roma e a fine giornata il sindaco Gianni Anselmi commenta è stato un accordo difficile perché difficile era il problema, ma questa è la migliore risposta per Piombino. La migliore risposta alle ansie, alle preoccupazioni che attraversano la comunità che rappresento qui, centinaia di persone che anche oggi erano in piazza a manifestare i loro sentimenti. E stamani a Piombino la manifestazione del 25 aprile è diventata un momento di solidarietà nei confronti dei lavoratori. La speranza è di poter tornare a produrre acciaio entro tre anni, ma spaventa la fase di transizione che si è appena aperta. Da Piombino ci aggiorna in diretta il nostro inviato Pietro Di Lazzaro. Pietro. Sì, buona giornata, grazie per la linea e abbiamo anche una visuale particolare, abbiamo fatto i collegamenti di questi giorni sempre davanti alla portineria della Lucchini. Adesso vi facciamo vedere però a livello proprio di figurativo, ma se vogliamo anche di sostanza, che cosa significa l'accordo di programma. L'accordo di programma riguarda la riconversione del polo siderurgico di Piombino e lo vedete. In questo momento lo stiamo indicando e a fianco lo sviluppo dell'area portuale. Vedete che sono assolutamente collegate. Ecco perché anche dal punto di vista logistico la strada che collegherà non solo con la Tirenica, poi tutta l'area portuale, è fondamentale anche la strada che collegherà l'area portuale al stabilimento siderurgico, perché per quello che sarà lo smantellamento e lo smaltimento delle grandi navi sono fondamentali anche dei passaggi. Quanto ci vorrà per la riconversione in chiave ecosostenibile di questo polo siderurgico, quindi per passare da Afo 4 fondamentalmente a un forno elettrico. Il Corex sa che possiamo parlare di una fonderia elettrica di ultima generazione, tre anni, forse anche di più, tre anni e mezzo. E la fase di transizione che si va a aprire è durissima, soprattutto per i lavoratori dell'aera calda e specie per i ragazzi dell'alto forno, che a breve avremo qui accanto a noi. Intanto vi facciamo vedere cosa è accaduto in questa giornata che riguarda Piombino, anche come città al valore alla medaglia d'oro per la resistenza e andiamo a vedere proprio anche il corteo che si è svolto per questo, per la giornata della liberazione. Il gigante addormentato svetta sul polo siderurgico piombinese. Nelle ultime 24 ore, più che della firma dell'accordo di programma, in città si è parlato dello spegnimento di Afo 4. La riconversione del polo e lo sviluppo del porto daranno lavoro a molte delle persone che in questo momento sono rimaste senza, solo con un sostegno economico, un ammortizzatore sociale. Bisogna resistere, si sta scrivendo una storia, speriamo. La certezza è che il nostro impianto in questo momento è fermo, è in stand by. Non molliamo, non molliamo, pensiamo al nostro futuro. Lei lavora meglio, dobbiamo dire lavorava in una ditta dell'indotto per l'alto forno. Lavoravo, da ieri siamo fermi perché fermando il forno la nostra ditta lavorava solo con le scorie a caldo, quindi siamo tutti a casa. Il corteo per livee del centro di Piombino in occasione della festa nazionale della liberazione ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza proprio dei lavoratori dell'alto forno che ieri mattina, increduli e commossi, sono stati costretti a spegnerlo. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, non abbiamo fatto nient'altro che prepararci a un'eventuale futura forse ripartenza, ma è l'unica speranza che abbiamo, anche se è poca. Gianni, grazie. Siamo tornati in diretta, qui avete visto le ultime immagini commoventi perché chiaramente quella che c'è stata e che continuerà è una battaglia durissima e accanto a me vedete due dei protagonisti di questa battaglia che sono Luca Morganti e Michele Nardini. Loro lavorano, non vogliamo dire lavoravano, lavorano all'alto forno della Lucchini e l'avete visto nelle immagini Michele hai abbracciato fortissimamente Gianni Anselmi perché questa è una battaglia ma non è persa, voi continuerete, non mollerete. No, non molliamo, non molliamo, anzi è stato un abbraccio di eterna gratitudine a chi ci ha aiutato anche se questa partita si può vedere sconfitta. Alle nostre spalle vedo il mio, il nostro alto forno che ci ha accompagnato fino a oggi, che spero ci possa accompagnare anche in un periodo di transizione. Non molliamo e la nostra forza è quella che ci mettiamo tutti i giorni, che ci abbiamo messo nel passato. Lo stesso governo che ci ha messo in questa situazione di dover mettere in stand by l'alto forno è quello che ieri ha firmato l'accordo di programma è una cosa molto importante che non si poteva non fare. Ti chiedo perdono perché purtroppo il tempo stringe, ringraziamo Michele e volevo chiedere anche a Luca. Michele è un giovane padre di 40 anni, Luca ha 30 anni e vuole farsi anche una famiglia. Ecco per voi da domani che fase si apre? Per noi da domani è una fase difficile in quanto bene o male l'alto forno per noi era una garanzia per il futuro. Progettavamo di ostriare una famiglia, di fare i progetti per tutta la nostra vita. Adesso ci troviamo un attimino spiazzati con un forze nel nostro domani, nel senso non sarà così semplice riuscire a risollevare una situazione economica che risulta così difficile e problematica. Insieme a Michele, insieme a Luca vogliamo augurare con i loro volti e anche con la loro sofferenza del momento un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi dell'alto forno, dell'aria a caldo e che lavorano alla Lucchini. Per ora dobbiamo bene tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, noi passiamo a parlare.